Ora, mi hanno detto che qualcuno mi ha flammato Vediamo Eccolo qua Non tradurne mai Grazie Allora Io vedo, allora Ci sono molte build, ok? Allora io decido di prendere Allora, la build con cui uscire dal bronzo Lo porca build È quella meno aggiornata Ma dai, Lily Ok Allora, lo porca build È su set Dove fai Conqueror Presence of Mind Come Presence of Mind Presence of Mind o Triumph Allora, qua Già Il fatto che Lily Che sia un Un player master Che va a vedere la mia build E dice Su set Presence of Mind Ha 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 Fa ridere, no? Perché set non usa il mana Cioè Come fai a non capire Che se metti Il Presence of Mind Su un champion senza mana In automatico Il gioco ti mette il trionfo Dovresti saperlo Tu giocatrice master A quanto pare Non sei così tanto Insomma Urba come pensi Visto che non sei sta roba Tra l'altro Qui di fianco C'è letteralmente Trionfo Forse è a discrezione Della persona Che effettivamente Va a scegliere il campione Dover capire Su questo campione Questo Quello Cioè Io ti metto una build lì Con un'infografica Perché non posso fare di meglio Perché giustamente Con delle immagini E non avendo Un sito web Tipo U.gg O P.gg Giustamente Non posso metterti Build per build Di ogni singolo campione Quindi lì faccio il possibile E sarà la gente Che dovrà adattarsi A dire Ok Bene Ho questo champion Non almana Perfetto User al triumph Ma anche se metti Press of mind Ti lo cambia in automatico In triumph Quindi non vedo il problema Cioè Lei sta tanto ridendo di me Di sta cosa qua Cioè Cugino capisci L'è femmina Non so Non penso che sia Quello il problema Anche perché Non è un problema Letteralmente Il problema è che Non ha ragionato In questo Caso qua Non penso che sia Una persona stupida Però in questo caso Un po' l'ha fatto La stupidina E vabbè Succede Ha solo trovato il contesto Per deriderti Sì 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 Ma tanto Lo sappiamo ragazzi La gente fa così Cercano tutti Cercano tutti i modi Per cercare di deridere Gli altri Alla fine sono fatte così Le persone Se non ne trovano Ah allora Sei una persona Stempiata Ah che ridere Beh Veramente Anche perché Se ci arrivo io A capire le tue build Che sono bronzo 3 E infatti Cristo santo Cioè Hai capito E a me fa veramente Ridere come Cioè Tu streamer Che ha una certa Comunque sia Audience No? Ti seguono 100 200 300 persone Alive Hai 200 300 400 A volte Anche spettatori Contemporaneamente In live Ti metti a deridere Gli altri streamer Totalmente a caso Ma per quale motivo Devi fare queste cose? Cioè come se io andassi a vedere Un mio collega Streamer Dicesse Ficchia Questo qua Fa veramente cagare Ragazzi ma Cioè mi sembra Questo è un clown Ma non seguitelo Ma chi è sto sfigato? Cioè letteralmente E Boh Cosa dirà Quando uscirà invece Il sito nuovo Con tutti i trollpick Tutte con le cose divertentissime Che ci saranno Facciamo rivedere Uno spoiler Di quello che sarà Il nuovo sito web Che sarà questo Qua ovviamente Avremo Più possibilità No? Dimostrare Tutto quello che è Che sono le build Cioè uno va qua E trova tutte le build Con cui ho fatto pentakill Oppure vuole vedere I miei trollpick? Clicca trollpick Vuole vedere Che ne so Delle cose Vabbè Esempio Vex Con come ha fatto pentakill Vex il cugino Ecco qua la build Bello sito Non è un lavoro da poco Infatti questo non sarà Un lavoro da poco Questo cosa dirà? Ah Vex con Il dark harvest Non si fa ragazzi Ah Il cugino trolla male Ha fatto pentakill così Perché gioca in bronzo È facile Ma letteralmente Troviamo una build Per ogni singolo campione Vedete A Z Trovate tutti i campioni Della Z Pentakill Con cui ho fatto pentakill Con tutte le build Ovviamente sono build Diciamo vecchie Perché giustamente Adesso ci sono nuovi oggetti Però comunque sia Le trovate Così come sono Abbiamo Cioè lo porca build Tra l'altro Quella che lei stava Tanto deridendo Non esiste più Perché non è più nemmeno Cioè non la voglio più Nemmeno tenere Le ho cambiato nome In ghiotto build E sarà comunque Completamente diversa Cioè lei si è andata A deridere Una cosa di un anno fa Che tra l'altro Ha aiutato tantissime persone Perché infatti Un sacco di persone Mi hanno detto Io grazie al tuo sito Sono salito un sacco Grazie alle tue build Sono salito molto E eccetera 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 Quindi Veramente Però io capisco Che questa signorina Faccia così Per il content Per il drama Perché vuole una mia risposta Vuole che io magari Le insulti Le dica cose E vuole che Che si generi Insomma Del casino E così ragazzi Il mondo Si vive in questo modo Dovete sapere Che l'internet Funziona così Dovete sapere Che è bello Ed è facile Puntare il lit E criticare Piuttosto che dire Cazzo dai Questo ragazzo qua È bravo Secondo me merita Andatelo a seguire Non conviene a nessuno Dire questa cosa No ragazzi Che cazzo gli conviene Dire Quest'altro streamer È bravo No no Non è bravo Ragazzi Seguite me Per favore Io sono una persona Insicura Seguite me Per piacere Perché Io sono bravo Gli altri no Guardate che schifo Purtroppo ragazzi Viviamo in un mondo Dove è normale Di più Dire queste cose Basta vedere Sotto i commenti Dei video Di Richard La gente Mi flamma In continuazione Non mettere più clip Di Cugino Rap Per favore Non so se l'avete mai visti Ho gente che mi augura La morte sotto Quei video Cioè Non mettere Le clip di Cugino Perché lui Sprende in giro I bronzi Va in bronzo A vantarsi Di giocare bene Contro i bronzi Che persona Di merda Mamma mia Non lo fa Per fare content Facendo trollpick Non lo fa Per aiutare le persone Anche a migliorare Con le build Con gli insegnamenti Facendoli divertire No 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 Lui lo fa Perché è stronzo Lui è una persona Di merda Che fa questa cosa qua Non ci sono Dovrebbero esserci Il suo clip Purtroppo ragazzi Finchè si vive In un mondo Dove è più facile Puntare il video E deridere Le cose che vengono fatte Invece che Appunto Elogiare magari Il lavoro fatto Dalle persone Perché quello Che comunque sia Anche se è vecchio Trovate qua sul sito Se è un mio Sul mio Sito web Attuale Diciamo queste pagine qua Comunque è un gran lavorone Però Giustamente Lei non lo sa fare Quindi più facile E deridere Che dire Cazzo sai che Queste grafiche qua Tutte queste robe qua Tutte sta pensata qua Di questa build qua Non è male Non è male E invece Eh vabbè ragazzi Ditemi un po' La vostra opinione Fatemi sapere Cosa ne pensate voi Di questi discorsi Il suo sito è figo in culo Lo che è successo Ancora haters Sì però Diciamo che sto giro Non ho fatto più Altre streamer Che altre cose Comunque resta sempre Svalorire tutte le cose che fai Si vede che ci tieni E sei attente particolare In ogni cosa C'è un sacco di lavoro C'è molto valore Siano pochissimi gli stream Che hanno qualcosa di simile In Italia credo tu sia l'unico Lo so ma infatti Questa è una cosa Che sarebbe da elogiare Invece no Vedi le persone Ah guarda guarda che stronzo Lui fa queste cose qua Sì ma intanto Pure le canzoni Tutte ste robe qui Io non so ragazzi Adesso vediamo poi Quando arriveranno Anche i nuovi format Perché Adesso Vi ripeto Adesso voglio fare Questo genere di Di format qua Intanto voglio fare la nuova AZ Challenge La AZ Zero Morti Nel frattempo Voglio dedicare Una serata settimana A O anche bisettimanale A La Landal Carry Cioè Un format dove Il nostro obiettivo Sarà per tutta la sera Focusare solo Uno del team nemico Ho preso a caso Tipo da una ruota Esce la mid Benissimo Focusiamo solo il mid Andremo in duo E il nostro obiettivo Sarà focusare solo Quella persona E Per tutto il game Ok E sarà Secondo me Molto divertente Da fare Una challenge Il nostro obiettivo Sarà mandare un messaggio Quella persona Potrà anche vincere il game Perché il nostro obiettivo Non sarà vincere Ma sarà Uccitela il più possibile Testeremo La pazienza delle persone Vabbè Si farà più di cose Vediamo se farlo Bisettimanale o settimanale Lo faremo in duo Con una persona Vediamo Poi ci sarà Una volta Anche lì Ogni settimana Le duo troll Con marghe Che è la mia ragazza Prima ragazza Che fa troll pick Mai vista Perché non ho mai conosciuto Nessun'altra ragazza Che fa troll pick Quindi faremo Questa cosina qui E intanto ci sarà Sempre la z Zero morti challenge E sarà la challenge Dove dovrò cercare Di fare Di vincere Con tutti i campioni Del gioco Senza mai morire E facendo almeno Il 30% Di kill Participation Cioè ragazzi Questa sarà la sfida Con tutti i champion Del gioco Non posso morire Devo vincere Devo fare il 30% Di kill Questa sarà la challenge Con tutti i campioni Non è così semplice Come ci si aspetta Però dice Vabbè Basta che non muori Benissimo Stai safe Eh no Però devi fare almeno Le kill Ah Devi pure vincere Ah Basta una sola morte E hai fallito Con quel champion Molto bene Molto bene Sarà da testare Ragazzi Sarà da testare Sai che uno sim È stato bannato Per feeding Per aver subito Quella roba Ah uno sim È stato bannato Per feeding Perché era stato Focostato tutto il tempo Però lì è diverso Perché lì sono arrivati Degli hater Che l'hanno fatto apposta Per farlo a lui Noi non banniamo Nessuno ragazzi Semplicemente Lo faremo così Per il meme Ok Quanti tentativi Per ogni campione In realtà È uno solo Cioè se io fallisco E muoio col champion Devo andare subito A quello dopo Una volta che avrò finito Il giro di tutti i campioni Potrò riusare Quelli con cui ero morto Però prima Bisogna fare Bisogna fare la roba La roba lì Ok Ciao Cerpe Buonasera Poi in futuro Arriverà un'altra challenge Che non vi spoiler Ma sarà devastante Una cosa che nessuno Ha mai letteralmente fatto Va bene Anche la z pente Che la z zero morti Nessuno le aveva mai fatte Prima queste Usiamo il muro Eh vabbè Tanto non mi uccide Perché la torre non l'attacca Letteralmente il range di torre Ah e mo Io ho una passiva Che mi fa rinascere Che culo Va bene Va bene Va bene Mamma mia Il potere del barrier Usato contro di me Questa cosa mi fa Brava Brava Il potere del barrier Eh ragazzi Guardate quanto è broken Questo barrier Oh no no Oh però ragazzi Avete rotto i coglioni Ma addio mio Soffro tantissimo E dai No Non va bene Per favore Repa Ma Andiamo via Sì mi sono dimenticato Di mettere il dark harvest Raga Incredibile Ho messo l'electricuit Mannaggia a me Cosa succede Di solito metto sempre Il dark harvest Lo sapete Però vabbè Ho messo l'electricuit Per Perché devo Allenarmi Per la bcs Però come vedete Nello basso Il dark harvest È sempre meglio Ragazzi Perché si fighta Molto di più Nello basso Nello alto C'ha senso Fai meno E quindi tanto vale Che fai più danno In quel fight Infatti per questo motivo Anche nello alto Vai di liendri Perché dici Fighta di meno Almeno tanto vale Che poi faccio più danno Perché dopo nel tempo Rimane quel Quello danno lì Invece Nello basso Si fighta di più Quindi Luden Su Anivia Va benissimo Anzi Sono tutti squishy Quindi è ancora Ancora più potente Almeno L'oggetto Faccio quello Però Giustamente Qua c'è C'è B Però giustamente Ehm Mielo alto Liendri Di solito Almeno Spermiamo B Prima che faccia Del danno Purtroppo Sono sempre qui Intorno a me Brava questa Lux Comunque Lux è molto brava Ragazzi Cioè non mi sarei mai Aspettato nella vita Di trovarmi Lux Dietro Di solito Vengono sempre davanti Nessun bronzo Mi fa mai una roba Del genere Starà forse Smart fandom Ragazzi dovremmo Reportarla Secondo Non si fa Buonasera Bobolops Ciao Peccato ragazzi Per tutti questi Kill rimaste Con poca vita Lux Bravert è l'ultimo Discutibile di prima Vabbè Prima l'ha usata Per pulire la wave In realtà non è stata Così poco discutibile Ha pulito la wave Velocemente E mi ha pushato La wave col carretto Sotto torre Il che significa Che io l'ho perso Dopo E infatti Ho perso Molti million Ne siamo pare di million Grazie sta Ulti che ha fatto Poi tanta poco Goldown E l'ha usata Però Siamo sempre a rischio Di gank Da parte di V Quindi non posso Espormi così tanto Specialmente senza passiva Anche se ce l'ho 13 secondi In realtà Ora ultiamo qua Tranquillamente Lux che Cosa fa Ma gioca benissimo E poi Inta così Ma scusami Gioca benissimo Contro di me Ma contro i miei compagni Beh gli camminerò In faccia A due tank Zack e tank E ci sono vostra Ammazzate Non si capisce Boh vabbè Sono stranezze Bene E si era per non Darla kill a me Meglio darla I tank La disintegrano dopo Buonasera Bobalops Lo so che lo avranno Chiesto già 78 volte Ma A che ora Giorno Stream La finale La bcs Ponto schermativo Finale Ragazzi È letteralmente Il comando Scritto nel titolo Ci sono scritte Tutte le cose Lux è un bel champ Mid Non capisco perché Non te la fanno usare La bcs Non lo so Ma Per loro è troll Perché Evidentemente Non è un champion Così forte Per la Per competere Ma secondo me Invece è broken Lux Per competere Cazzo Che palle Eh no eh Eh ma Porca puttana Due Tre ultime Ho fatto B Lux Kate Oh Sei morta Se non c'è nessun altro Che ti aiuta Niente Scherzavo Beh non male Comunque ragazzi Forse stanno Focussando tanto Su di me Perché Sono pericoloso Perché dagli altri Prendono il cazzo Anche là Vedete Due Quattro Tre Zero Internet Tipo la fosse Le mani Più vai in fondo E più inizio i problemi Beh questo è vero Io da quando ti seguo Anche se a volte lascio la live Come sottofondo Ascoltavo consigli Eccetera In due tre mesetti Ho fatto da ferro Due Bronzo Tre Sì ragazzi Perché io do Sempre un sacco di passivi E passivamente Persone Ascoltano la mia live E sono migliorate Su lol E sono salite Ok Ripeto Non che sia una roba Importante Perché non è che sia La vita Salire su lol Molti lo è Però Non è la vita Per tutti Va bene Sofi Boh un po' Un merdaio Stabcs Nessuno si è divertito Anzi pure Gli sfottò E Eilichan Benvenuta Nel mondo Di Di League of Legends Italia Degli streamer Di League of Legends Italia Precisamente Io Purtroppo Ragazzi Ho sempre visto Cioè Gli streamer di Lol Italia Molto fissati Tra di loro Con Boh Con Insomma Le loro Le loro cerchie Non lo so Tutti quanti Che si Che flammano Questo drama Inutile E ovviamente I giocatori Seguendoli Ragazzi Vedono Questi Questi Esempi Di comportamenti E Giustamente Li emulano Li emulano Lo stessi Nelle chat Nelle partite Dicendo Sarà giusto Comportarsi In questo modo Porca troia Non tutti ci sono Porca troia Ero fuori No Vabbè Forse no Mi sembrava Di essere Fuori Bar Volete il bar Guardate Ditemi Se ero fuori Vediamo Comportarsi In questo modo Porca troia Quanto tutti ci sono Eh ma Porca troia Ero fuori No Vabbè Forse no Mi sembrava Di essere fuori Bar Bar Volete Oh Secondo me Ero fuori Dai Letteralmente Ero fuori Dalla cosa Però Giustamente Pensiamo Una cosa Quello È il fiume Il nemico Era in una posizione Sopralevata E quindi Ero dentro In realtà Ricordatevi Sempre una cosa Ragazzi Quando uno È qua E attacca uno Che è nel fiume C'è la Cosiddetta Mappa 3D E la posizione Sopralevata E quindi Ti colpi Cioè tu Pensi di essere Un punto Ma in realtà Sei facilmente Colpibile Lo stesso Ho fatto anche la zacca Aveva la passiva E poi mi ci moriva Con la ulti di Jill Sta zitta Oh god 18-5 Molto bene Dopo la gioco io Lux Così magari Me la fanno giocare Dai dopo questo Faccio un altro game E facciamo vedere Che la Lux Del cugino È valida Siamo in bronzo Christian E esattamente Questo account In questo momento È ferro 1 Lux Addif Full attack speed La facciamo normale Ragazzi Oggi mi devo allenare Non sto facendo Tanti trollpick Stasera Gli ho già fatti Tutte le altre sere Se vi ricordate Abbiamo fatto Dei trollpick Devastanti Veramente fichi Però Dai come ultima serata Prima della Finale Domani sera Non sarò in live Vi ripeto Meglio se mi alleno Ragazzi Mi sono salvato Da un gank Di 4 persone Molto bene Bravo Tamken Ci ben arrivato Ora Morirai I'm back Dite come Stato a fondo Della rank Perché amo La tua voce Oh Bene bene Sono contento Almeno non strillo Come una Prima ho giocato Jax o porca build Con la shojin E ho carriato 19 a 2 Molto potente Infatti L'aggiornamento Che avrà Allo porca build Sarà proprio La shojin All'interno Della build E' anche il frutto Del degenero Della società Qui di solito Sono tossici E se Se sei uno tranquillo Non fai numeri altissimi Infatti E' verissima Questa cosa Ragazzi Sto notando tanto Che Alla fine Però Vabbè Sti cazzi Ognuno Si sceglie il suo pubblico Io ho scelto Di non essere Tra quelli tossici Perché normalmente Come persona Non mi ritengo Una persona tossica Non sono mai stato Così Flammerino Tossichello E di conseguenza Il pubblico che avrò Magari sarà minore Rispetto a uno che Magari si mette lì A flammare Vestemmiare Dar di matto Tutto il tempo Gels Io mi sono divertito Ma infatti Sono contento Gels Molte persone Si sono divertite Ed è giusto così Ma anche io Mi sto divertendo Però ci sono state Alcune uscite Di altre persone Che non sono state carine Però si sa ragazzi Tutto un drama La gente fa tutto così Per fare Per fare content Non si sa per quale motivo E via Però poi alla fine Sotto 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 Rosicano tutti Io vedrò Con le persone Ehm I streamer Diciamo di persona Mi trovo molto bene Dal di fuori Delle live Molte persone Sono fantastiche E ok Però Con alcune persone C'è per esempio Lilin Dal vivo Si è comportata In un modo Con me E poi Mi fa Ste cose qua Letteralmente Ehm Alle spalle Cioè dal vivo Lei mi è venuta A dire Letteralmente A Luca Comics Ah sono un altro grande fan Ti seguo Tutte le sere Ste cose qua Ma Quando mai Non so perché Avete Sta cazzata Io voglio fare La pinca Porca puttana Che palle Mi ha preso pure Il blu Ma posso Muovermi Grazie Cioè Cosa abbiamo risolto Morgana Non mi hai ucciso Cioè che appunto Poi dite Ma ci sta la presa in giro Finché sta come sfottò Va benissimo E quello È ok Ma va benissimo Però un conto è fare Quello tipo di sfottò E un altro conto è andare a Sparare merda Sul lavoro degli altri Per cui quello si tratta Letteralmente di lavoro Mio Che faccio E quindi Mi trovo la clip Di una streamer Che si viene a dire Eh vabbè ma tu Fai questo Fai questo Fai questo Ah ah Presto mind su set Siamo stupidi Siamo tutti scemi Siamo tutti stupidi E allora Grazie veramente Ciao Ciao Ok E quindi Così ragazzi Uh Poi lo sanno pure i bronzi Che sei sempre Ma esatto Lo so che lo sanno pure i bronzi Ma lo sa pure lei Ragazzi Però doveva cercare il modo Di sfottere Di ridere Di ridicolizzare L'altro streamer Perché così giustamente Ci fa più bella figura lei E magari così Il pubblico continua a seguire lei E a non seguire Questo altro streamer Che ne so ragazzi Perché la gente deve far così Io non lo so Io sono più dell'idea che Se ci si supporta tra content creator È meglio Però ovviamente Non è che ce ne siano tanti Di content creator Su League of Legends in Italia La maggior parte Sono giocatori Che stimano le loro partite Di solo Q E basta Non è diverso Rispetto all'essere Un content creator Ma chissà che È sta voglia di sentirsi Per forza migliore Degli altri In Italia Funziona così Dovete sapere Che ho visto Un po Streamer internazionali Che fanno troll pick Che ragazzi Ce ne sono Un'infinità Molti più che in Italia È una cosa molto più normale Gente che letteralmente Fa contenti nello basso Come faccio io E nessuno Mi rompe i coglioni Dicendo Oh ma tu sei un coglione E prendi per il culo i bronzi Nessuno fa queste cose ragazzi Cioè Sono Letteralmente Molto più Normali Sta roba qua Per Per ridere Per far content Ed è veramente triste Vedere che invece in Italia Non c'è questo culto Dell'imperazione Impegnarsi Nel portare Dei contenuti Originali Divertenti E cose di questo genere Schiacciati nei muri Porca puttana Questo era il mio support 4-0 Spaccata con sta linguata Ma è broken Questo tizio Adesso vi laggo ragazzi Adesso vi laggo Tranquilli Ora facciamo un faker call Non c'è più là di carry Quanti muri Oltrepassa Quanti muri Doppia uccisione Doppia uccisione Fatta Vai Magnala 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 Arriviamo Arriviamo Leccala tutta Leccata Italiano medio E scemo In Italia Siamo bravi Ad odiarci l'uno O l'altro Molto bene Viva l'Italia Lo bello paese Con le belle persone Molto bravi Perché il competitive È così alto All'estero Che se fai contact Va bene Invece in Italia No È vero Effettivamente Forse è vera Questa cosa Sapete Cioè in All'estero Internazionalmente Parlando È pieno di pro player Ok In tutte le nazioni In Italia Non ce ne sono di pro player Perché nessuno È bravo In realtà E E di conseguenza Una persona Che non prova A diventare bravo Per il proprio paese Non sei un patriota Tu devi nerdare Dalla mattina Alla sera E provarci A diventare pro player Devi farlo Perché non ce ne sono E non puoi fare content E non puoi dire alle persone Di non impegnarsi Sull'ol e trollare Adesso era una concezione Dell'isport Diversa Prendo due blu Perché due È meglio di uno Giochi Tutti calmi Che le cose importanti Sono ben alte Stiamo perdendo la bussola Infatti Quello che dico sempre È questo Francesco Cioè Alla fine Tutti quanti Io sono bravo Alla lega della leggende Tu invece no Tu meno Cosa Tu fai contenuto Dove ti diverti In un gioco Senza essere bravo Qualcosa puzza Non puoi divertirti Sull'ol Senza che giochi serio Anzi Non puoi divertirti Proprio Perché non è che Chi gioca serio Si diverte Ah ciao Caitlyn Ti vuoi uccidere? Eh? Fatti sotto Sei coraggio Fammi resuscitare Sì Ammazzata Alla mia cu La rinascita Della felice Ti arriva in faccia Lo ghiacciolo Beccatelo tutto in faccia Coom shot Invece che one shot No va bene Va bene Va bene così Sperate a finire Prima la clip Ok ok Cosa possiamo buildare Qua adesso? Facciamo Una bella zonia Ci sta Lugino che ne dici Di giocare una volta È che è in full velocità Con il Predator Face Rush Turbo Camp Ma come si fa a fare Sia Predator Che Face Rush Scusami È impossibile Poi anche per fare content Che fai tu Bisogna essere bravi Non è che uno di punti In bianco Prende e gioca Tutti i champion del gioco Assolutamente Comunque Leggo un attimo La chat Che cosa che avete scritto Purtroppo È la commenti di lol Vero Pierre La gente parla Ma non riesce neanche A fare quello che fai te Esatto La gente parla Ma non riesce nemmeno A fare pentachick Con tutti i champion del gioco Eh me lo fai in bronzo Ma tanto non ci riesci Comunque Anche se tu lo facessi in bronzo Buonasera Ciao Cerpe Buonasera Michel Tra i discorsi di prima Io da quando ti seguo Anche se a volte Lascio la live Come se Ok Grazie Cristo Santo Mi fa piacere I got to go Wank Cosa vuol dire Wank Scopare Vorrà sicuramente Dire No 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 Togliamo subito Le ward La visione Importante Non strilli come un'aquila Purtroppo Build OP per Eimer Ciao Precons Stai su mio canale youtube Ne faccio un sacco Io Sono Opto per la laserata build Mi piace molto Come build per Eimer La trovo veramente OP Ti ringrazierò per sempre Perché con le tue build E madonna Di più Mi hanno sparato tutto Ragazzi Mi hanno tirato pure L'armadio Segarsi Vuol dire segarsi Visto era qualcosa di simile Ma perché deve segarsi Questo Scusami Cioè è proprio un dovere Io devo farlo Vabbè Si vede che Alcune persone Senza sega Non vanno a dormire E vabbè Ti ringrazierò per sempre Perché con le tue build Ho iniziato a divertirmi Mentre gioco al LOL E ho smesso di tiltare Con la tua mentality Grande Noctur Visto Cazzo Ti do la build Con cui divertiti Ti do la mentality Con cui non tiltare Più di così Solo vantaggi dal cugino Invece da quelle altre persone Che lo prendono tanto in giro E lo vogliono deridere Aia Sono le prime che flammano Che ti danno l'esempio sbagliato Sono quelli cattivi Non vanno seguiti ragazzi Mi raccomando Facciamo come loro Sto scherzando Ovviamente Sto scherzando Scrivete Chi cazzo vi pare Non me ne frega niente Però giustamente Tenetevi lontani Da ste robe Se uno inizia Di ste cagate Sapete che Non è che L'ultima cosa Che forse non ti ho mai detto Cugino Ma solo tu concretamente Stai cercando di aiutare Lelo Basso Tra tutti I streamers Forse è vero Giulia L'unico streamer Entrata Possiamo pensarci Facciamo una nuova community Una community sana Fatemelo sapere nei commenti In questa partita abbiamo fatto molto just chatting Stiamo chiacchierando veramente di tante cose Anche dei concetti importanti Quindi avremo Sicuramente molto da dire E mi aspetto comunque sia che Sia un po' di scambio di idee Ciao Vilardi Grazie del premio e benvenuto Che piacere Possiamo pushare Fottutamente finire la partita Devo seguarmi No rendiamogliela più lunga Aspetta No dai il cozzo I don't want You go to walk Ecco So We will not end E qui dentro No cazzo non ho il muro Vorrei venire a prendere con Porca troia Ci stava eh Well that's sad I'll get blue balls Ma come E niente Ma da quant'è che non lo fa Scusa se ha le palle blu Madonna mia Non ci credo mai E' molto triste So ragazzi Non può assolutamente aspettare Più di 5 minuti Adesso inizio a trollare con i muri Tanto abbiamo vinto Abbiamo 3 inibitor presi Cioè Ora si può anche trollare Oh raga Nel momento in cui Velkoz ulta Io lo interrompo Vediamo se funziona Voglio tornarlo Il troll finale Cugino Birichino Malandrine Dai ulta qualcuno Velkoz Fammi vedere Noo Eh vabbè Già abbiamo fatta Abbiamo trollato Velkoz Bene bene Che cazzo è successo Barca puttana Non funziona più la mia ultima Vabbè Dai tanto E questo è il bello di Anivia Cioè è l'unico campione Con cui puoi trollare così tanto Vieni Velkoz Vatti a segare Bravo Bravo bimbo Oh tutti S S più S meno S meno S meno Ale Tutti bravi Non ho fatto un cazzo di danno Ragazzi veramente Sono stato inutile Sono stato inutile Abbiamo solo chattato Con la chat Vabbè Però abbiamo parlato Di concetti importanti Come lo chiamiamo Questo video su youtube Perché alla fine Non è che ho fatto Chissà quale Gran partita Però abbiamo parlato Di concetti importanti Anzi ne stiamo ancora parlando Continuiamo Ma davvero Aveva senza Facciatare un progetto del genere Se hai una determinata opinione Su gran parte delle persone Che partecipano al bcs Ciao 30 Non sto parlando di questa Della bcs Non stiamo parlando della bcs Attenzione 30 Non confondete due discorsi E la bcs mi sto trovando bene E mi sto divertendo Questa giro Molto più delle altre Assolutamente Io sto dicendo Che le persone Al di fuori Di quello che è il concetto Della bcs In generale Per quello che abbiamo appena visto Perché io sto parlando Di una persona Che non ha nemmeno Partecipato al bcs Ok Quindi Centramente Forse tu non ci sei Dell'inizio del discorso Uno ha tirato in ballo Alla bcs Solamente perché Già che c'era Ok Ha detto questa cosa Ma non c'entra un cazzo Quindi non è che io ho accettato Un progetto del genere Se ho questa opinione Non c'entra nulla La bcs Questo discorso che sto facendo È al di fuori La bcs In teoria Dovrebbe unire Quelli che sono Gli streamer Le community Cercare di rendere Una cosa divertente Il tutto Ma in realtà Va a finire che Sono purtroppo Un miasma Diciamo Delle cose Perché la gente Non gioca Non gioca veramente For fun E le chat Sono veramente Tossiche Cioè voi vedete Le persone che Flammano tutti Uno fa un errore Guarda lì Che scarso quello Io le vedo le chat E' veramente triste Vedere tutta quella roba Però vabbè Un conto sono le chat Cazzi delle chat Ci sono persone Che vogliono godersi Il Il torneo Godersi Il content Per quello che è E' bene Posso così No prima hai anche detto Altro riguardo la bcs E tuoi stessi compagni di squadra Ma ok Sì infatti ho detto Che con i miei compagni di squadra Sono Mi sto trovando molto molto bene E Per quanto riguarda la bcs Ho detto che alcune persone Alla bcs Si sono messe a fare A lamentarsi tanto A rosicare tanto Per aver perso E Perché le altre persone Puntavano a vincere E' un discorso che già abbiamo affrontato Altre volte questo Purtroppo E' un po' triste Vedere tutto questo rosic Da parte della Della gente Quando semplicemente Dovrebbe essere Cioè Succede Cioè Persone che hanno già vinto Il torneo La bcs Altre edizioni E stavolta Non hanno vinto E quindi Eh no Ma loro Aiardano Siamo un torneo Grazie al cazzo Ragazzi Non lo so Di che cosa Che cosa avevo detto di preciso Che cosa ti stai riferendo Trenta Perché giustamente È passato un po' di tempo Stiamo facendo mille cose insieme Stiamo parlando di tantissime cose insieme Io stavo parlando Di quello che riguarda me Purtroppo Ho preso in giro Ci sono stati due risate fine Guarda l'altro giorno Il cugino che ponzecchiava Matteo KS Facendo finta di essere il dottore Poi dopo lui ha risposto Chiedendo a Paolo Che lo fosse Cugino Rapp Sì Quello ci stava a torre Però penso che Lui non sapesse proprio Che io avessi fatto quella gag In realtà Però Quando Matteo KS Ha fatto la gag Dicendo Cugino Rapp Che lo è E Paolo gli fa Gold E Matteo KS Dice Allora è scarso Cioè è ovvio Che quello è fatto per ridere E anche io mi sono messo lì A dire Ah sì Matteo KS Allora adesso 1v1 Ti spacco Cioè ma chi cazzo se ne frega Cioè Matteo KS letteralmente Non gioca al LOL L'ha disinstallato E l'ha reinstallato Solo per giocare alla BCS E' ovvio Che se lui va a dire Che sono scarso E' ovvio Che è una cosa per ridere Cioè è ovvio Che lui sa Che è il più scarso di tutti Perché non gioca al gioco Ed è ovvio Che io non me la prendo Se Matteo KS Mi viene a dire una cosa del genere E che faccio finta Se dico Ah sì Matteo KS Come ti permetti 1v1 Cioè Quello è normale E finché è così Perfetto Bellissimo Divertente Fa ridere Ok Un altro conto E se ti metti a A vedere ste robe Che abbiamo visto prima Con Lilian che guarda la mia build E dice Cazzo Presence of mind Su set Allora La build con cui uscire dal bronzo Lo porca build Ok Allora Lo porca build E' su set Dove fai Conqueror Presence of mind E' su set Come lo dici che è su set Hai capito Lo vede qua in alto Cioè Questa è E' un'infografia Che ci dà l'idea Di quali campioni Su cui funziona Qui sono degli sfondi Cioè E' ovvio che Vabbè Però giustamente Ragazzi Ripeto Non è una persona stupida Lily Lo fa apposta Per fare content Per fare drama Però Letteralmente Capite Io in alcuni momenti Non riuscivo a capire bene Se le fieriche di Dara Stavano memando O se erano seri Ed anche le tre ragazze Che avevano in team Sembravano disagio spesso Ma Ellino Io da quello che ho visto Fieriche di Dara Hanno rosicato tanto Però L'hanno buttata sul Memiamo Perché tanto Siamo il team più scarso Non abbiamo possibilità Di vincere E quindi La buttiamo sul meme Bene Però In fondo Alla fine Io Per giorni Entravo nelle chat Di questi stream E vedevo Persone che scrivevano in chat Eh ma quelli c'hanno il coach Ma Si portano il coach Per la partita di calcetto È come se io facessi questa cosa qui Sono un ex pro player Di modern warfare E mi porto il coach Per fare il torneo for fun Ragazzi ma Veramente Beh Se l'altro team È più forte di te E ha vinto Ma che cazzo Di colpano loro Cioè se voi aveste vinto Non avreste mai Non vi sareste mai Comportato in questo modo Non avreste mai detto queste cose Però avete perso E quindi dite così Cioè Veramente Vabbè Lasciamo stare quello Però Si era quello A cui mi riferivo prima Trenta Se era Questa cosa Chiamasi essere stupida Per colare la persona Solo per fare content A casa mia Si chiama essere stupidi Guarda Trenta Io voglio evitare Di parlare male Comunque Degli altri Miei diciamo colleghi Però sono d'accordo In questo caso Non posso Rinnegare la verità Per me Fare content Facendo reaction Su Altri streamer Tuoi colleghi Dando loro Degli stupidi E per curare Deridendo il loro lavoro È una cosa Da idioti Io non lo farei mai Ok Non mi metterei mai Di andare a vedere Il lavoro di un'altra persona E buttargli Di merda Sapendo che io sono uno streamer Un tot seguito Perché comunque Lili ha comunque Dei numeri È come se io andassi Boh Se non sbaglio Lili è anche Anche più spettatore di me Credo Non lo so È come se io prendessi Andassi a vedere Che ne so Ciro Cuckù E iniziasi a dire Minchia Sto sfigato qua Manco si fa vedere In cam Cioè ok Non so Vabbè Ovviamente roba La prima cosa a caso Qui ce l'ha la cam Giustamente Però Sto scherzando Non è che è vero Sto flame Verso Ciro Cuckù Però è per farvi capire Cioè se andassi a vedere Una delle gente a caso E parlo male di loro Di The Rhythm Ci verrà questo qua Si crede forte Porca troia Invece far ridere i polli Cioè Ovviamente lo trovo Una cosa molto Molto schifosa da fare Però giustamente Ragazzi Siamo su League of Legends Italia E giustamente Si fa per tirare A tirare drama Per far sì che l'altro streamer Poi risponda E così la chat Va da lei Oh sei cattiva E l'altra Poi la chat di lei Va da me Oh sei uno stronzo E tutto così Ragazzi È questo Di quello di cui Mi stavo lamentando Non c'entra la BCS Questo è un po' Quello che fanno gli stream La BCS si è poco bilanciata Si vede però Si cazzo Se si perde Ma infatti ragazzi Ma poi Ripeto Deidara e Fieric Hanno già vinto Una BCS No? Vi ricordate? Hanno già vinto una BCS Quindi che cazzo Si lamentano? Cioè Tra tutte le persone Che hanno partecipato Alla BCS Dovrei essere io Quella che ha diritto Di lamentarsi Per tre fottute BCS Mi hanno messo Nel secondo ruolo Jungle Invece che mid Perché? Perché non ci sono Abbastanza jungle Quindi cugino fallo tu Perché sei quello Meno conosciuto Tra quelle persone Che invitiamo Tra di noi Sei quello che Boh Conosciamo di meno Quindi Sei la Capretta sacrificabile No? Quindi vai tu jungle Benissimo Per tre BCS Sono andato jungle A prendermi solo insulti Da tutte le squadre Che hanno giocato Perché giustamente Non so giocare bene jungle Dalle chat Degli altri streamer Perché mi vedevano giocare Giocavo pure male Giustamente E non ho mai vinto una BCS E vado a giocare La mia prima BCS Nel mio ruolo E Che succede? Cugino Divano si muove Sì lo vedo Divano si muove Gioco la mia prima BCS In mid E mi viene il covid Gioco con 39 di febbre Pur di giocare lo stesso E non mi sono lamentato Mi sono stato zitto Sigma male mentality Tutti a giocare le mie partite Sempre Non mi sono mai lamentato Queste persone invece Perdono una BCS Dopo che hanno già vinto Una altra BCS Prendendosi anche il trofeo Tutte queste cose qua E si lamentano Ragazzi Veramente mentality Debolissima Quindi Erosi che hanno per così poco Porca puttana Meglio la genuinità Di una brava persona Che La sfigatezza Di chi Si fa bello Facendo il bullo E resta uno sfigato Infatti Francesco È quello proprio Il mio stile di vita Io penso che alla fine È tanto facile Prendere E farsi Farsi belli A discapito degli altri Prendendo in giro Agli altri Invece è più difficile Farsi il nome Invece standosene zitti Facendosi gli affari propri Alla fine Le persone che seguono Questo genere Di contenuto Sono le persone Che Anche loro Sono così Guarda quello Fa ridere i polli Esattamente quindi Cagano il cazzo Perché ti impegno Se hai solo uno sciocco Citando Gang Semplicemente Non mi piace Lavorare con gente del genere Non mi piace Partecipare a progetti Dove è presente gente del genere O lei è solo un esempio Stiamo parlando da mezz'ora Di quanto sia tossica La community Con di credito di love Però continuiamo A collaborarci insieme Infatti 30 Io quello che Una cosa che ho detto È che non sono sicuro Che parteciperò Alla prossima BCS Perché io volevo farne Almeno una Nel mio cazzo di ruolo Però non sono sicuro Che parteciperò Alla prossima Perché ho notato E a me Questa vetrina Che dite tanto Che conviene In realtà a me Non conviene così tanto Perché non è che I miei numeri si alzino Quando faccio la BCS Anzi delle due si abbassano E tantissime persone Che mi seguono Non sanno un cazzo Di chi sono gli altri Content creator Non sanno niente Degli altri Perché la maggior parte Le persone che mi seguono Vengono da YouTube Che seguono uno streamer Che porta contenuti Diversi dal solito E hanno piacere Di seguire uno streamer Che fa queste cose E non sanno niente Del resto del panorama Italiano Della community di lol No E quindi Quando faccio queste cose E un sacco di gente Mi chiede Ma cos'è la BCS Ma chi è Paolo E gli sono a mente Ragazzi veramente Ma so che magari Per molti è strano E dicono Ma come non fanno Non sapere Chi è Paolo Cannone Streama da sette anni A mille Due mila spettatori Eppure è così ragazzi Tu per fare il content Che fai tu bisogna Ok Tra i giovani C'è una percezione Delle priorità Tadalmente sfanculata Della noia Da quello che vedono Pontificare Da chi per grave È un giochino Streamer che più che Dare alla cultura Tolgo Tu sei fatto di un'altra pasta Ma infatti Grazie Francesco Sono contento Che si noti questa cosa Però giustamente Si nota Cioè Non notano poche persone Perché sono poche le persone Che effettivamente Mi seguono per questo motivo È molto più divertente Magari seguire lo streamer Che sfotte gli altri Piuttosto che lo streamer Che cerca di darti Un po' di Insomma Un buon esempio Ok È più facile Mi diverto di più A seguire quello Che bestemmia in due secondi O quello che percura Gli altri streamer Che crea drama Io voglio sentire i litigi È molto più divertente Per me Utente medio Che vuole vedere Twitch Cioè Ti metti nei panni Della gente Che guarda Twitch Generalmente vogliono questo Cugino Dove è il passare di Yumi È stato Offuscato da Questa bella topa Dietro di me Vedete Ora Amare Ora dire una cosa Che forse non ti hanno mai detto Cugino Ma solo tu concretamente Stai cercando di aiutare L'Urbassa Raga Io devo verificare una cosa Ok Io ci sto per il gruppo Della rivoluzione Puliamo LOL Italia Vendiamo un posto Dove divertirsi E laserare tutti con le build Questa è veramente Una community Di un sacco sana Io mi ci sono trovata Bene da subito La maggior parte Delle persone che scrive qui È un sacco tranquillo E gentile Ma poi te sei sempre sorridente E simpaticissimo Ti impegni un sacco E si vede Anche quando ti capita Di non stare bene fisicamente È proprio piacevole Ascoltare live E interagire anche Con gli altri cugini Grazie Sophie Bellissimo messaggio Dove posso vedere la finale La finale la potrete vedere Forse la streamo io Comunque la vedrete Sul canale di Paolo In caso punto schiamativo finale La finale è il 5 Non il 4 Oggi siamo già al 4 Però sarà domenica Oggi che è sabato Non streamerò Streamerò direttamente domenica Probabilmente là Dalla postazione 12-15 Punto schiamativo finale Per tutti i dettagli Prima è ok Sì mi ricordo Una chat in BCS Dove uno moriva in game E uno fa godo Veramente bambino La sera Sì sì no ma è sempre così Se voi ci fate caso Andate a vedere Le partite della BCS Guardate Dal vote di Paolo Cannone Di dove la gente può scrivere Perché negli altri vote Non si vede Perché la gente Tiene la chat solo emote Però se il loro vote Ogni volta che qualcuno muore Fa qualcosa di sbagliato Subito Oh mio dio Guardate che Quello lì fa schifo Tutti quanti così Sempre ragazzi C'è sempre qualcuno In chat che scrive Una roba del genere Oppure c'è una ragazza Che mostra la cam In live Ma chi è quella Instagram della tipa Oddio ma un cacchia figa C'è ragazzi Letteralmente Veramente Robbe Ti fanno scendere Le speranze Ma dietro Non per sempre Non bisogna ascoltare Quando si lamenta Ora io cerco Se è il più imparziale Possibile Ma counter Un pelo Tossica A volte lo sembra Poi non conoscendolo Magari è il più bravo Del mondo Non ho quel messaggio E la risposta Ok In alcuni momenti Non riuscivo a capire bene Ok Nino penso di aver ti risposto Per quanto riguarda Dare a Fieric Circuso è bellissimo Non so bene cosa sia successo Ma le poche volte Che sono entrato da lì Le ho visto Play da bronzo Quindi non so che diritto Abbia di giudicare Vabbè Quello magari è sentato In un momento sbagliato Non lo so Io cerco sempre Anche di difendere Anche gli altri team Anche se parlano male di Vedico Mi vedi Ti sto dicendo Ma magari è sentato In un momento sbagliato L'unico che potrebbe lamentarsi Dovrebbe essere Malgax Uno che voleva tryhardare Ma è stato incastrato In un team presamente meme Sì anche Malgax Per esempio Aveva diritto di farlo Eppure Ha mantenuto una buona mentale Dicendo vabbè Io proverò almeno a vincere un game E basta Il suo momento Di Malgax arriverà In un'altra BCS Lui voleva tryhardare Si è trovato un team di merda Perfetto Non vincerà questa Lo sa Non è che può farci niente Non lo vincerà Sa che avrà un'altra possibilità Non ne sarà l'ultima BCS questa no? E quindi Cioè Sarà un altro Il suo momento di brillare Ok Così come per me Non lo è stato per tre volte Adesso sono arrivato al finale Finalmente Magari la vinco anche Cazzo figo Però per me è già bello Poter andare là E giocare dal vivo Sarà una nuova esperienza Per me sarà molto figo Non l'ho mai fatto nella vita Per me sarà divertente Cioè Sono molto emozionato Per questa cosa Ok Ci stava Marghi dietro Che dormiva Mi sono preso un colpo Quando si è alzata Buonanotte Black Ah che sveglia Qua c'è il drama No Il vero piacere È la possibilità Di poter interagire Con una persona grande E saggia Come il nostro cosino Grazie Anderpower Buonasera Ben arrivato Il calpestami Era la parola più scritta Ad ogni Pre e post game interview Infatti ogni volta Che c'era una ragazza No ti prego Calpestami Oh mio dio Oh sì Ti prego Cioè Veramente Prossima volta Ti invito a casa mia Per la prossima edizione Così recuperiamo Vai Anderpower Ci sta Ecco Quello Era carino Anche il tuo torneo È come se tu Dicisci Marghe Calpestami Solo perché Esiste Sì 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 Va bene Signori Dai Detto ciò Abbiamo parlato Abbastanza E niente Per concludere Avete capito Cosa ne penso Di guarda questo Di guarda questo Davvero Non capisco Come fai Con questi capelli Ancora è tornato Il ragazzo dei capelli È tornato Marghe Guardalo È quello lì Dell'altra volta Sfigato Poverino Sfigato Poverino Ecco Molto bene Vabbè Poverino Lui È molto bene Vedete ragazzi Cioè Quando le persone Proprio Comunità italiana Di lol Guardate Guarda sto Streamer Guarda i tuoi capelli Mamma mia Non mi piacciono Sei veramente Come fai Cioè E vabbè Povero piccolo Povero piccolo Mattio Ametti Magari un giorno Maturerai Dai anche tu Signori Detto ciò Mi togliete la chat Solo imot Tanto stiamo salutando Almeno per il saluto finale Così la gente può Può scrivere Grazie Signori Ci becchiamo Domenica pomeriggio Chi è la ragazza dietro? La mia ragazza Piggy Si chiama Margherita Credo O Martina Non mi ricordo Ultimamente ti scambiano Casino Perché la chat Qui pensa La Martina Sì Non mi ricordo più Ciao stempiato Guarda continua Buon notte Nexus Italy Cucino ti ho tenuto in consotto Fondo tarzerata Mentre lavoravo sulla campagna di D&D Ringrazio per avermi tenuto compagnia E avermi promesso di cillare Ciao Camy Buon notte a tutti Buon notte a tutti ragazzi Sei ricco? Che domanda è? Sei ricco? Sono normale Cosa vuol dire Sei ricco? Sì sono ricco di Non lo diciamo Bene signori Sono molto Notte nasone Sei raggiunto un'altra Sei raggiunto un'altra Va bene Sei un gran figo Immagino comunque Ecco ecco Molto bravo Matthew Tu sei il gran figone Va bene Ragazzi Dai Questo bellissimo Scambio finale Con Molto ovviamente Di cultura Con questi Con questa bellissima chat Grazie Smettila di Scopare Cosa vuol dire Sto frase? Eh niente Adesso non devi neanche scopare Va bene Dai Matthew Il re del cringe Va benissimo Ah no Ha scritto Copare Ah copare Cosa vuol dire Matthew Vabbè lo sai solo tu Copiare credo che intendesse No no Ha detto copare 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 Vabbè ragazzi Copare Copare si intende quando cerchi scuse Tipo Ah ok ok Molto Molto acculturato Signor Matthew Cerca Cerca scuse Ma che scuse stiamo cercando Ragazzi Ma che scuse stiamo cercando Non stiamo facendo niente Non abbiamo trovato nessuna scusa Almeno sapesse quello che sta dicendo Capito Ma le scuse per cosa? Eh ma infatti Non lo so Stiamo cercando delle scuse Ricco dotato Per chi non aveva capito Per questo sta con lui Dilemma risolto Ecco E sia ricco che rocco Basta troppo copie Non ce la fo Va bene Non ti preoccupare Ti aiutiamo noi Adesso ti vanno Mi dispiace Mettio Ti è arrivata un po' di verità Probabilmente Lui ci avrà una Foltissima chioma Però chissà Quanti altri Difetti di merda Come il carattere Quello stai Tra i due Te lo assicuro Sei una po' Una persona Piccola Va bene Eh Sono dubbi Va bene Va bene Complimenti Mettio Dai adesso Ti banniamo Che così Cuglione Ecco Cugino Niente Cuglione Che ti Concentri I capelli Di cucino Ma infatti Sei una grande priorità C'è cucina Sei sempre meglio Se ho imparato Evelyn con L'aserata Build in jungle Potresti delle Potresti delle modifiche La build per la jungle Grazie mille Come Luden Tempesta Al posto Della cintura Razzo Ah si Cur Ovviamente Per Evelyn Jungle Non vai Di Luden Vai Di La cintura Comunque Trovi tutti i video Su Evelyn Se fai Punto Scramativo Evelyn C'è proprio Il video dove la spiego Passo passo Il gameplay Non so se spiego Anche la build Non mi ricordo Però comunque Lo trovi Che bel Comune Guarda È il migliore esempio Di twitch Ma tu sei bellissima Metti Vuoi dire cosa dice Soprattutto Perché secondo me Una volta che lo vedi Dal vivo A Brassino 13 anni Ma quando c'entri In casa dal vivo Lui sta all'interno Impaurito A dire Un cazzo Molofatta Grossa Va bene Va bene Dai Metti È stato Un bravo ragazzo Un salutone Anche a te L'ho bannato Ragazzi Tanto Aveva rotto Il cazzo Lascia Ho appena visto Il video di Lillian Secondo me Non ci ha capito Una ceppa E come dici te Voleva solo Polemicare un po' Infatti Emilo Penso che sia quello E alla fine Vabbè Non leggere un luvole Questo Infatti L'abbiamo bannato Victor Così Arrivederci Tanto non può Assolutamente Carare un nuovo account E farsi bannare Anche su quello Vero Metti Che non lo farai Farai il bravo E te ne stai zitto Proprio come dovresti fare Nella vita vera Come faresti Anche dal vivo Perché effettivamente Dal vivo queste cose Non le diresti mai Leoncino da tastiera Detto ciò Andiamo a ridare Signor Ciro Cucu Che prima abbiamo Offeso gratuitamente E Andiamo Sì sì In mezzo alla strage C'era pure lui No no Non stavo dicendo Niente su di lui L'abbiamo reso in causa Così per ridere In realtà Poverino Ragazzi Farei un video Video su Zilean Vediamo Grazie a tutti quanti Della compagnia È stato un piacere Spero che Vi siate divertiti Spero che Insomma Abbiate Trovato degli spunti Un po' diversi Ho fatto un po' Ragionare su alcune cose E sì Per quanto riguarda Lily Penso che Sia stato apposto Fatto per quello Lilian fa così La conosco Ormai Mi l'ho capito Come funziona E anche se mi sembra Un po' strano Perché dal vivo Lei mi dice Ah ti seguo tutte le sere Sono una tua grande fan Quando so benissimo Che non è così Anzi Io vedo sempre il contrario E non capisco Perché debba fare così Dal vivo Però appunto Ripeto Cioè se lo fa Lilian Dal vivo Figurati uno Come metti Ripeto Tutte le persone Quando le vedi dal vivo Speratamente diverse No 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 Bugino ciao Foto insieme Benissimo Va bene signori Grazie a tutti quanti Della compagnia Ci becchiamo Domenica Pomeriggio Per la finale Mi raccomando Venite a fare il tipo per me Ciao belli A presto Buonanotte